300.000 firme sono già arrivate, poco meno di un terzo per arrivare al milione da portare alle istituzioni europee per assicurare protezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e dell'integrità di ogni essere umano, fin dal concepimento. Un'iniziativa cruciale per il futuro della comunità continentale, per capire su quali valori debba essere fondata. I valori cristiani sono le radici dell'Europa. Certo, ci vivono cristiani e non cristiani, ma tutti possiamo unirci su certi valori, come il concetto di persona, di natura umana, di ragione. È questo la campagna Uno di noi, un milione di firme per porre fine nell'Unione al finanziamento di attività che implicano la distruzione di embrioni umani, in particolare nel campo della ricerca scientifica. Ed ecco allora l'appuntamento del prossimo 12 maggio, con il supporto della Conferenza Episcopale Italiana. In tutte le parrocchie, i banchetti per aderire alla campagna e riportare sotto i riflettori un tema tanto importante. Il 12 maggio vuole essere non una chiamata alle armi o una crociata, assolutamente, ma rimettere proprio al centro questa questione della vita. Con questa iniziativa europea, che senz'altro è una grossa occasione che noi non possiamo perdere. È chiaro che il momento che stiamo vivendo è un momento molto difficile, economico, il lavoro, tutto è importante. Ma la questione della vita e della concezione dell'uomo è senz'altro il punto di partenza.